Allora siamo all'elettrocarbonium e c'è Valerio Carluccio che all'interno della struttura sta realizzando questa opera. Praticamente una mano che tiene il carbone e la torre sopra e dietro il Duomo di Ascoli. Qui siamo sempre all'interno dell'elettrocarbonium. Queste sono un po' di foto ricordo degli anni che furono. Grazie a tutti. Questi erano i vari uffici. Un casco abbandonato. Chissà di quale povero operaio. Qui c'erano i vari riparti. Garroponte. Grazie. 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 Grazie.